Dopo lo straordinario successo della missione anticipata, l'Unical apre le porte del campus ai giovani per l'avvio della fase standard per le iscrizioni ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico per l'anno accademico 2024-2025. Dal 15 luglio al 30 agosto, infatti, sarà possibile presentare domanda per i quasi 4.000 posti disponibili, che si aggiungono agli oltre 2.200 già assegnati nella fase di ammissione anticipata e a quelli oltre 500 previsti per i corsi a numero programmato nazionale. Due nuovi corsi di studio che ampliano ulteriormente i 39 dell'offerta formativa, concepiti considerando le esigenze emergenti della società e dal contesto lavorativo. Si tratta di scienze e tecnologie per le attività motorie sportive ed ingegneria biomedica. Sono già stati programmati 10 incontri informativi nel campus rivolti alle future matricole. Nel mese di luglio sono previsti 5 eventi, il 9, il 10, il 16, il 17 ed il 31 luglio, dalle ore 9 alle ore 13, presso il centro congressi Beniamino Andreatta. Nel mese di agosto, invece, sono in programma altri 5 appuntamenti che si terranno sempre presso il centro congressi nei giorni 1, 2, 21, 22 e 23 agosto. Per iscriversi, la domanda di ammissione deve essere compilata online a partire dal 15 luglio e fino alle ore 14 del 30 agosto 2024 su unical.s3.cineca.it.